... Bisogna convincerli, bisogna semplicemente capire chi siamo. Quando loro capiranno chi siamo, chi è il Movimento 5 Stelle, che sono cittadini, che stanno all'interno delle istituzioni, ma sono sempre unici, normali, semplici, questo siamo noi. Noi siamo i cittadini che sono entrati nelle istituzioni, non vengono finanziati, non vengono le nostre assicurazioni, né dal Petro, né dal Banco, né dal Gioco d'Aspazio, che stanno nominando migliaia di famiglie. Noi siamo i leader, siamo i lunghi leader, e lo saremo anche qui in Comune. Lo saremo anche in Comune. Noi dobbiamo far capire alle persone, noi abbiamo capito, abbiamo la responsabilità di far capire alle persone. E una cosa vorrei dire a chi non ancora ha capito, qualsiasi cosa è fondamentale del nostro programma nazionale, il reddito di cittadini. Ce l'ho fatto. Quando... Mi fai un scatto, una fotocongioccia? Ma di te la bandiera. Aspetta, mi ricorda la gente che la fa torta e la, anche l'uno di tutti i giorni, si sceglie, ma non che soggia un'unica storia a Vengellar. Aspetta, un'altra. Ma che cos'è? Un video? Un video? Aspetta, aspetta. Un video? Oh, Gennaro, da cosa? Una cosa importantissima, riuscirà a dare i servizi sociali a costo del mondo. Il modo che il Napoli potrà diventare di nuovo, il vero attrattivo, non solo turistico, ma della cultura, cioè che i centri a tenere e il conservatore dimostrano che il Napoli è stato aperto a sempre, un centro di attrazione per l'intendenza, non solo europea, ma di tutto il mondo. Bene, con questa lenda. Adesso c'è Vincenzo Vincano. Ciao Vincenzo, prego. Gennaro, ciao a tutti. Come si tratta? Tutto a questo? Tutto a questo. Ciao, Salvatore. Ciao, caro. Sei stato grande, c'è un'altra. Poche battute le nazionali. Sono le macchine passano poche, ma essenziali. Guidade. Sì, sì. Adesso ci ho fatto un po' di buono. Hociato questo genio. Mi bella di fare. Grazie. Siamo qua, se stavano avanti, 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 e se stavano avanti. Grazie. Grazie, Vicenzo. Allora, adesso Maurizio Gruzzo. Ciao, Maurizio. Stasera sono fatto su Lucio. Ma il conto più grande che abbiamo fatto con i giovani, la pace del gruppo, è riuscito a parcare di una nozione che la conosce alla nozione e nessuno è stato disinteressante quando tanto parlano di interessi e non stavano avanti. Quanto mi sono andato, tutto sono andato in palazzo della scegione. Scendiamo? Scendi. Scendiamo per dietro. Scendiamo per dietro. Rosalba Morra, candidato al Comune e candidato alla Decima Municipalità. Pagnoli, il risultato, l'impallimento di una politica scelterà da industriale. Dobbiamo ribattare questo progetto, dobbiamo fare in modo che Pagnoli metta dei cittadini. Che il progetto possa raffreddare solo dai cittadini. Sta tremando proprio. Sta tremando, al torrento. di Pagnoli e si viva a certezza ai cittadini e ai cittadini fratelli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.